Ci sarà una commissione d'inchiesta, certo giù applausi, però poi quanto a tempi ci vorranno mesi se non anni. Senza contare che dalla mozione del PD, attrazione sempre sotto sotto Toscana, ogni riferimento alla lista è svanito. Il ministro Padoan, anche lui un po' nel solco mediamente giacobino, oggi dice la giustizia faccia presto. Il governo auspica che chi ha creato danni alla collettività venga sanzionato. Presto, certo, sicuramente almeno prima della commissione d'inchiesta. Ecco allora il punto, non è più mozione morale, è una gogna che comincia a far comodo un po' a troppe persone. Patuelli, banchiera, ha iniziato anche meritoriamente, giusto che se pagano agli italiani, gli italiani sappiano. Anche il Monte Paschi stesso si è premurato di dire la lista la diamo noi, ben felici di farlo, ma serve una legge. Ma ci sarà mai una legge così, sapranno gli italiani. La gogna non è più solo mediatica, è strumento di marketing semplice, tentata, anche la politica, della quale andrebbe ricordata però una premessa. I nomi dei politici sulla lista degli infedeli, altro che se ce ne sono, non in disarmo, non verranno resi pubblici. La legge sulla riservatezza che si applica ai privati e non alle imprese vale anche per i politici e a loro nessuno tirerà via il passamontagna. Mentre invece gli altri bidonisti, copyright libero, per loro ormai è outing. Oltre che di Sorgenia, che fu della famiglia dei Benedetti, ormai di lei si sa, Marcegaglia spiega che ha restituito quanto in scadenza, ma tra chi ha difettato in Solerzia ci sono Acea, Termi di Chianciano, Atac, sempre romana. Spuntano aziende di pasta asciutta, amato, ma anche leader delle banane, Orsero. Tutte posizioni da verificare, qualche rata qua e là l'hanno versata. C'è anche la CAI che fu di Colaninno, holding primordiale dell'Alitalia da Patrioti. Proprio lei di cui si parla di nuovo in queste ore, perché nuovamente in crisi. Ma allora la domanda vera è un'altra, chi non c'è sulla lista? Si farebbe prima. Profumo, banchiere, dice che se il credito fu fatto dalle banche ad aziende sane, poi sfasciate dalla crisi, la colpevole è solo lei. La crisi, ok. Allora quando a una famiglia pignoreranno qualcosa, la risposta deve essere la stessa. È stata la crisi. Succede però anche che, in una giornata così, sia una banca, una delle poche rimaste sane, la Ubi a prendersi l'incudine di Etruria. Marche e Chieti l'hanno fatte prendere a lei per 400 milioni. Gli sportelli ci sono, su un territorio in fondo non male. Il titolo ha guadagnato più del 9%, il mercato brinda al cerino ceduto. Sui bancomat della nuova Etruria il marketing della speranza aveva scritto che era rinata una banca, però sulle ceneri non è ancora finita.